Cos'è il Bluntkes Trauma? Trauma toracico del torace è una lesione subita quando un colpo forte o un impatto significativo che è stato sostenuto direttamente al petto. In molti casi, questo tipo di trauma potrebbe verificarsi dalla forza di un oggetto contundente caduto direttamente sul petto o dall'essere schiacciato contro un oggetto o una superficie. Più comunemente, i tipi di trauma che coinvolgono la forza contundente sono spesso visti in incidenti automobilistici o in alcuni tipi di violenza fisica. L'abuso di minori è un'altra delle principali cause di trauma da taglio contusivo. Trauma toracico del torace può colpire varie strutture all'interno della parete toracica e delle cavità toraciche. Il trauma può coinvolgere direttamente la gabbia toracica, lo sterno e i polmoni. Contusioni, fratture e sanguinamento interno sono comunemente visti in associazione a traumi contusivi. Un medico traumatologo o un infermiere traumatale tratta solitamente tali lesioni. Molti casi di trauma toracico possono causare il collasso di uno o entrambi i polmoni. Questo può accadere se una costola fratturata perfora il tessuto polmonare. La respirazione compromessa e la tosse con il sangue possono essere seri segni di una significativa lesione da trauma. Quando un polmone è collassato, la condizione nota come pneumotoraci può diventare pericolosa per la vita se non curate rapidamente. Ferite da arma da fuoco e coltellate rappresentano un'alta percentuale di trauma contusivo al petto. Questo tipo di lesione può causare sanguinamento nel torace. L'emorragia può essere pericolosa per la vita, motivo per cui il sanguinamento deve essere interrotto il più rapidamente possibile. In molti casi, verrà eseguita un'operazione chirurgica per riparare il danno o eventualmente rimuovere frammenti di proiettili o altro materiale depositato nel torace. Molte volte dopo che si è verificato un trauma toracico, possono svilupparsi problemi cardiaci. Ciò può verificarsi soprattutto se sono state coinvolte costole rotte. Il muscolo cardiaco stesso può indebolirsi, danneggiarsi o gonfiarsi. Di conseguenza possono verificarsi anche problemi all'interno della valvola. La dissezione aortica può risultare, che può portare a sanguinamento e morte massicci se non riparati con la chirurgia. La dissezione aortica avviene quando si verifica uno strappo significativo nell'arteria principale del cuore, nota come aorta. In alcuni casi sospetti di trauma toracico-toracico che hanno provocato la morte, tipicamente verrà eseguita un'autopsia. Questa procedura può essere condotta da un patologo forense. Questo è un medico specializzato che è addestrato a determinare la causa della morte in determinate circostanze che sono generalmente violente per natura. Il patologo forense può anche decidere se la morte è stata un incidente o se il paziente si è tolto la vita. Il patologo forense può anche scoprire prove che indicano in modo conclusivo l'omicidio. Grazie. Grazie.